Ed era Gino Paoli con Sapore di Sale, il Crystal History, siamo andati ben dietro, è 1964, pensate, ma è questo il Crystal History, portarci dentro una storia e ricordare la grande musica italiana, e non in questo caso, beh, un pezzo che insomma, io sfido chiunque a non averlo cantato, nel senso che dai, anche se siete andati l'altro ieri, Sapore di Sale lo sapete, c'è poco da fare. Se invece volete una nuova abitudine, che magari volete aggiungere, o magari ce l'avete già, e quindi complimenti per l'abitudine che avete, potete seguire i consigli di Tamara Malleo per l'abitudine del teatro. Buongiorno Tamara! Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano, e buongiorno anche a Viola che ti affianca dal punto di vista tecnico, che così salutiamo tutti. Ma non solo tecnico, sai quanto mi dà questa trasmissione, anche dal punto di vista intellettuale, molto più di quello che posso dare io, quindi no, Viola, la produzione di Viola è fondamentale, questa trasmissione. Producete tutti insieme, che è sempre una cosa bella, lavorare. E posso dirti Tamara, se ne sono accorti nei giorni scorsi, perché per due giorni non l'ho avuta, ed è successo di tutto qui in Onda, quindi davvero, per fortuna che è tornata Viola. Per fortuna che è tornata. Allora, tre consigli di teatrali. Mi sono accorta che i miei temi sono sempre un po' impegnativi, anche se siamo, diciamo così, in prima mattina. Però il teatro ci porta anche a questo, a riflettere, a portarci in temi complessi che il teatro cerca di, diciamo così, sbrogliare la matassa e quindi portarci a delle riflessioni complesse, però all'interno di un mondo che ci permette di farle quelle riflessioni. Allora, andiamo a Teatro Linguaggi Creativi, che già la settimana scorsa avevamo trattato, quindi siamo in zona Barona, quindi Romano-Metropolitana Verde, perché c'è la nuova produzione del Teatro Linguaggi Creativi, guidata da Simona Migliori e Paolo Trotti. Una bellezza piccola, piccola. In scena ci sono Maria Alice Tavaglini e Diego Polgualtieri con Simona Migliori e Michele Postabile, con la regia di Paolo Trotti. Di cosa si parla? Al centro, il tema è molto complesso, perché al centro ci sono un uomo e una donna, un artista e il suo amante, che si ritrovano dopo 20 anni e la donna sta per lanciarsi nel vuoto. Deve compiere la sua ultima performance e l'uomo la guarda e non le crede. Allora c'è tutto il tema della complessità del gesto artistico, di cosa significa essere artista, quale soglie bisogna oltrepassare, quali solitudini attraversare per portare l'arte su un palco, ma riuscirla anche a far arrivare al pubblico. E c'è un tema importante all'interno di questo spettacolo che è la bellezza, perché in questo spettacolo si sviluppa l'idea della bellezza che è un'esperienza che ci sfida a trovare un senso nel suo oggetto. Perché noi diamo sempre il giudizio di bellezza che è un giudizio estetico, ma in realtà dentro il giudizio di bellezza dovrebbe essere, diciamo così, staccato dall'idea, diciamo così, estetica, inserita all'interno di un sistema, di un ordine molto più complesso che riguarda emozioni, desideri, piacere, quindi in una complessità che può essere spiegata appunto attraverso il teatro. Quindi questo spettacolo ci può portare attraverso la sua, diciamo così, il suo racconto, la sua storia, in una riflessione importante sulla bellezza. E quindi una bellezza piccola, piccola, sarà in scena venerdì, quindi domani, sabato e domenica, al teatro Linguaggio Creativi, via Villoresi, appunto zona Barona. Interessante perché poi qualche settimana fa l'abbiamo parlato appunto dello stesso location, quanta roba danno, cioè veramente c'è tantissimo che... Produzioni piccole, diciamo così, rimangono due o tre giorni, di solito le fine settimana, però sono, diciamo così, varie e soprattutto appunto sviluppano il contesto di... Sviluppano il tema della drammaturgia contemporanea, originale, dando appunto spazio a nuove compagnie, ma anche alle loro produzioni, in questo caso è una loro... Menù bello ricco, menù bello ricco, bene, bene, bene. Ci spostiamo in un altro teatro, sempre, diciamo così, un po' piccolo, inteso come dimensione, che è campo teatrale, che si trova in zona Alambrate, e in questo caso anche loro accolgono piccole compagnie, compagnie di giovani, in questo caso sono molto giovani perché sono da qualche anno usciti dalla scuola del teatro Paolo Grassi, e quindi sono veramente ragazzi che si stanno affacciando nel mondo del teatro, il collettivo Coltomare con Sarebbe una grande idea, sono già in scena a campo teatrale, rimarranno fino a domenica, e qua il tema centrale è il tema della televisione che si unisce, in qualche modo, al tema della vita, perché al centro, appunto, c'è la televisione con la sua mercificazione di qualsiasi cosa, per soddisfare il desiderio e la propria ambizione, però, diciamo così, la televisione viene inserita all'interno di un episodio familiare molto particolare, perché due fratelli si ritrovano davanti alla barra della madre, e quindi, diciamo che un fatto privato e molto personale diventa un fatto mediatico e come accade, come vediamo che accade, la televisione porta ad una spettacolarizzazione di sentimenti, di emozioni, di eventi, e quindi un evento molto privato e molto personale come il lutto può essere portato, diciamo così, in un contesto molto più ampio, e quindi c'è una proiezione in cui una bara diventa il centro di una diretta streaming, il camerino di uno studio televisivo, l'anticamera di scontro e ingresso all'interno di una diretta televisiva, quindi è vero che sembra quasi un po' forte, diciamo così, come riferimento, perché chiaramente il lutto è un evento che si vive in maniera molto personale, ma in questo caso, esasperando la situazione, si può arrivare a riflettere e a pensare a quanto la televisione sia invece dentro la nostra vita, portandoci a spettacolarizzare qualsiasi cosa, anche un lutto. Ecco, allora ti rubo solo un secondo Tamara, perché sul tema, nel senso della televisione, ma in realtà di come appunto è centrale nella vita di tutti noi ormai, che può essere anche poi riportato sul web e tutto quello che è appunto la comunicazione, vi consiglio un libro, così voglio uscire un attimo dal mio ruolo oggi. E questo che fa il teatro, ci porta questo. Infatti, il libro si chiama Fiona, di Mauro Kovacic, del 2005, non è nuovo, è veramente interessante, è uno dei libri che mi ha tenuto più attaccato di tutti, il contesto è quello televisivo, in realtà parla poi di tutt'altro, ma parla anche di come quel mondo lì appunto porta chi ci lavora dentro, chi ci vive dentro, chi lo vede da fuori, insomma a comportarsi in certe maniere appunto quando c'è e quando non c'è la televisione. Non so, ma se volete, Fiona si chiama, Fiona Mauro Kovacic. No, ma devo dirti che ha questo, diciamo così, in un contesto molto diverso, ma sempre di televisione, parla anche Acido Solforico di Amedino Tomb, dove si parla anche qua delle esasperazioni di quello che avviene all'interno di un contesto televisivo, passami il termine tra virgolette, tipo grande fratello. E quindi cosa porta a fare un contesto del genere, cosa sei disposto a fare per arrivare ad essere il vincitore all'interno di un sistema televisivo. Quindi è molto interessante, ma il teatro fa questo, apre tante finestre e noi dobbiamo continuare ad aprirle. Per chiudere volevo soltanto dire appunto, scritto e diretto da Marco Trotta, con Michele Marullo ed Edoardo Spina, sarebbe una grande idea, collettivo Costumer, teatro, campo teatrale. Quindi anche questo. E per chiudere, perché so che lo conosci e perché comunque secondo me vale la pena, anche se io non sono per le grandi ricorrenze, comunque sabato è il 27 gennaio, quindi è il giorno della memoria, ma in questo caso stiamo parlando del teatro della cooperativa, che è un teatro molto votato, diciamo così, alla memoria, non soltanto in questo periodo, ma in generale per la sua programmazione e per i suoi anni spesi in questo campo. E quindi Renato Sarti è l'anima del teatro della cooperativa ed è in scena in questa settimana, fino a domenica, con In me ci amava per nome, 44.787. Si parla di un posto che io, devo dire la verità, non conoscevo, di una situazione che io non conoscevo storicamente. La saliera di San Sabba, giusto? Esatto, esatto. La risiera di San Sabba, di S. Che è l'unico lager nazista in Italia, momento di forno crematorio, ed è appunto Renato Sarti, ha raccolto le testimonianze di ex deportati basandosi sul lavoro di Marco Kotlovich e Silva Bon per l'archivio di Trieste. Raccogliendo queste testimonianze attraverso questi due storici, Renato Sarti ha voluto portare insieme, in questo caso a Valentina Picello, che è un'attrice strepitosa, meravigliosa, le voci di coloro che hanno vissuto questo dramma, e lo fa come sempre, in maniera molto onesta, in maniera molto diretta, senza cercare l'esasperazione emotiva, ma volendo portare la storia a disposizione di chi quella storia non la conosce, perché questa storia in realtà nelle scuole non si studia, diciamo se non per una ricerca personale, non si conosce, e quindi Renato Sarti vuole, in qualche modo attraverso il suo teatro, portare la possibilità di far sì che queste storie non scompaiano, che possano continuare a vivere, e che possano continuare a farci sentire che c'è un momento a cui non si può tornare, e in realtà in questo momento storico, diciamo che... Certi rigurgiti, come si dice, sembrano tornare. Quindi secondo me Renato Sarti fa un lavoro difficile, molto complesso, ma in questo momento assolutamente necessario, stiamo parlando del teatro della cooperativa Zoran di Guarda. Tamara, lo consiglio anche perché la storia colpisce anche nel vivo Renato Sarti, perché Renato è friulano, è di quelle zone lì, parla di quelle zone lì, parla la lingua che si parla in quelle zone lì, quindi davvero non c'è forse persona migliore di Renato Sarti per portare in scena il Chiamama per nome. Oltretutto lui, essendo di quella zone lì, ha anche conosciuto proprio di persona alcuni dei sopravvissuti alla risiera di San Sabba, e come dicevi tu poi ha fatto questo ottimo lavoro insieme a questi due storici che proprio sono andati con l'anternino a cercare tutte le varie pagine e risvolti nelle pagine della storia. Quindi davvero molto molto interessante. Invito chi ci sta ascoltando in questo momento a farsi un giro su Instagram, di Milano News, perché c'è un'intervista fatta pochissimi giorni fa dalla nostra Gaia Folloni proprio a Renato per parlare di questo spettacolo. Sullo stesso tema ti do l'anticipazione che mi ha dato Renato Sarti fuori onda, ma si può dire, nel senso niente di trascendentale. A breve, febbraio-marzo, adesso non sapeva ancora bene neanche lui quando metterlo in scena, verrà messo in scena sempre da lui e dalla sua compagnia. Invece un altro spettacolo molto interessante. Il titolo è difficilissimo perché è in tedesco, ma per gli amici ahimè, per quelli che conoscono, T4 viene chiamato, di Paolini. Anche quello molto interessante, parla di un progetto appunto che i nazisti misero in atto ben prima dell'inizio della guerra, parliamo degli anni 39 e giù di lì, anzi scusate, è 37-38 e anche in realtà in Italia ci fu una piccola appendice di quel progetto, un progetto di sterminio bruttissimo, una pagina davvero complicata della storia, che però con il progetto T4, appunto i nazisti portavano avanti, e che con lo spettacolo intitolato T4, Paolini ha portato in scena e verrà messo in scena alla cooperativa, al tratto della cooperativa da Renato Sarti, invece, volevo darti questa anticipazione. Mi sembra che dalla fine di febbraio, qualcosa del genere, bravissima, sì. Ne parleremo anche noi, dal 20 febbraio al 3 marzo. Ah, ok, perfetto. Questo per capire il fatto che Renato Sarti continua il suo lavoro legato alla memoria, non per una data specifica, quindi per un evento che ritorna tutti gli anni, ma in realtà sempre, perché lui è molto attento ai temi, peraltro appunto in tutta la sua stagione, nelle sue stagioni, la cooperativa è sempre molto presente nel tema della memoria, quindi... Sì, 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 è un filo conduttore di quel teatro, diciamo, ci sono vari teatri, vari fili, il territorio, spesso la cooperativa racconta molto bene le storie di Milano, le storie del territorio, le storie... Oppure un altro filone che vedono spesso e volentieri le storie della gente, la storia del popolo, la storia dell'agricoltura, spesso e volentieri ho visto spettacoli che raccontano questo, e poi ovviamente quello della memoria, che è un tema che porta molto, molto avanti Renato Sarti nel suo teatro. Tamara, che bello parlarti la mattina così comunque. Questo lo dici tu! Lo dico io, lo sottoscrivo e lo risottoscriverò per sempre. Ma non so se i tuoi telespettatori e i tuoi telespettatrici sono d'accordo, ma condividiamo lo stesso questo spazio. Sicuramente sono d'accordo, e se non lo siete non avete capito niente. Adesso ve lo dico. No, invece loro hanno molto capito, perché bisogna avere un ascolto critico. io voglio che le prossime settimane arrivino dei messaggi che mi dicano, ma tu non parli mai di questo, non parli mai di questo teatro. Vuoi una critica? Vuoi una critica, Tamara? La posso fare se vuoi? Vuoi una critica? Sì. Hai detto che Via Villoresi è in Barona. Se ti sentono quelli di Via Villoresi, non ti dico cosa ti fanno. No, non è vero. E' fuori in Barona. No, non è vero. E sì, al di là della Circo Invalazione non è più Barona. Fino alla Circo Invalazione è Barona. È zona Romolo. Zona Romolo. Ah, no, ma si è fatto guerra per molto meno. Scusate, allora Villoresi non è in Barona. Tamara, grazie mille a te. Dai, ci sentiamo giovedì, allora. Buona giornata e grazie mille. Buona settimana e ci vediamo a teatro. Sì, ci vediamo anche su Antenna 3, poi dove, dov'è che sei? Sì, ma l'importante è che ci ascoltino e ci ascoltino, nel senso che io faccio parte di questo viaggio, la mattina, con l'abitudine del teatro qui con noi. Va bene, va bene. Grazie mille Tamara, allora. Un abbraccio, andiamo avanti con la musica. Michael Jackson con Billie Jean. Quest'oggi l'ufficio programmazione davvero si è dato da fare, non so cosa si combina, ma forse anche loro così si sentono risvegliati dal fine gennaio, dopo Sant'Antonio, il falò, la natura rinasce, anche l'ufficio programmazione oggi si è fatto prendere. Complimenti. Grazie all'ufficio programmazione. Michael Jackson, Billie Jean.